Nome. Billy Goal. Soprannome. Timber Town Killer. Numero vittime. Due accertate. Modus operandi. Arma da fuoco. Billy Goal è nato il 6 febbraio 1873 in Germania. Poco si sa della sua vita, se non che nel 1903 emigrò negli Stati Uniti, ad Aberdeen, Washington, ed iniziò a lavorare prima come barista, e poi come funzionario sindacale per la Sailors Union of the Pacific, una sorta di banca e posta dei marinai che sbarcavano o partivano dal porto di Aberdeen. Billy Goal era un tipo basso, rotondo, duro e grosso. Molti sono i racconti a lui attribuiti. Si raccontava che l'uomo aveva rapinato un negozio di sigari, e che aveva sparato a delle barche. Dal 1909, Aberdeen divenne noto come un porto violento. Sembrava quel qualcosa di malvagio fosse arrivato all'improvviso. Molti furono i marinai scomparsi in quel periodo. Venivano trovati galleggiare sulla riva, morti per un colpo d'arma da fuoco, e con le tasche vuote. Il numero di morti era impressionante. Le autorità contarono fino 200 cadaveri. Goal era nel mirino della polizia, poiché, in quanto funzionario sindacale di quel porto, non si era minimamente interessato ai suoi marinai, a quelle morti. La verità salto fuori grazie alla testimonianza di un suo collega. Il testimone riferì alla polizia di aver visto Goal in compagnia di un marinaio, Charlotte Berg, dato poi scomparso il giorno successivo, e trovato morto da un colpo di pistola. Questo permise alla polizia di indagare sull'uomo, scoprendo che possedeva una pistola calibro 38. La stessa, usata per uccidere Atberg. È il febbraio 1910 quando Goal venne arrestato. Era accusato dell'omicidio di Atberg e del massacro di tutti gli altri marinai. In tutti gli interrogatori, gli inquirenti facevano una forte fatica a capire i fatti. L'uomo cambiava versione in continuazione, le sue parole erano piene di vuoti. Era chiaro che nascondeva qualcosa, ma alla fine riuscirono a fargli confessare l'omicidio di Atberg. La motivazione era dovuta dal fatto che il marinaio voleva raccontare alla polizia che Goal aveva sparato ad una mucca. Durante il proseguimento delle indagini, la polizia riuscì a ricondurre Goal ad un altro omicidio, quello di John Hoffman. Gli inquirenti, alla fine, dopo tanta confusione, riuscirono a ricostruire il modus operandi dell'uomo. Goal uccideva i marinai nel palazzo del sindacato a colpi di pistola. Rubava loro tutti i soldi e poi smaltiva i corpi nel fiume Wischka. Secondo alcuni rapporti, c'era uno scivolo che scendeva da una botola nell'edificio direttamente nel fiume. Fu, così, condannato a 20 anni di carcere, per l'omicidio di due uomini, anche se sospettato di 41 sui 200 corpi trovati. Dopo pochi anni di galera, fu trasferito in un manicomio criminale dove morì nel 1928. L'ipotesi che Billy Goal fosse responsabile di quella lunga scia di sangue diventò quasi certezza quando, dopo il suo arresto, la situazione al porto di Aberdeen sembrava essere tornata nella normalità.